Sono le 15 in questo momento, pronte a partire con Remolini che toccherà il primo pallone della gara Il pallone ancora verso Remo Remolini che vede l'inserimento di Bertolini in area di rigore Bertolini, tocco al lato Ancora Mencaglia a lottare, la palla resta buona per lui Prova addirittura il tiro in porta C'è D'Ambrosio che rischia tantissimo per l'altro qua giù Va verso il centro per Sacconi Sacconi vede la sovrapposizione del compagnino di squadra Il tiro sul secondo palo Finisce direttamente sullo da fondo con Pagnini che era sulla sfera Ed ecco che arriva il fischio Per cui, come non detto, niente recupero 0-0 tra Mobiliari Ponsacco e Terranova Traiana Pronte a partire per la seconda frazione 16 e 0-1 Sui cronometri si parte Per la seconda frazione tra Mobiliari Ponsacco e Terranova Traiana Potrebbero essere schemi anche in questo caso La palla è sul punto del calcio di rigore Pagnini risponde alla palla di Mareli Ed è buono il gol Ed è buono la rete da parte, credo, dell'appena entrato Scinea Non sono riuscito a vedere chi sia stato a colpire il pallone in rete Per il Traiana, per il vantaggio No, non è possibile Mazzei allarga per Gualtieri Ancora verso il numero 9 che affronta la porta Entra in linea di rigore Ce l'ha sul destro Palla per Sacconi Lì ci riesce a metterci una pezza Sesto corner della ripresa Ferma l'iniziativa Ponsacchina per un attimo Riparte verso Remorini alla sinistra Remorini in mezzo alle linee avversarie Palla per Mencadi La lascia dietro Resta buona per Regoli E al lato Al lato Zaccagnini contro l'argentino che riesce a soffiare Poi Zaccagnini lo ferma La palla è buona ancora per Massai Che riesce a sterzare Si propone Mazzei Sul destro il numero 9 Mazzei Pagnini risponde Macchi deve calciarla via Il pallone non riesce a controllarlo L'attaccante Ecco, c'è un errore di Rossi La palla diventa buona allora per Sacconi Che prova il tiro al centro La palla filtra E Massai conclude sul fondo Scenda giù Ancora per Benericetti Che prova in porta Benericetti Trova la traversa Una fiammata Nel numero 19 La palla è ancora buona per Mencadi Dietro per Franco Franco accorsa al centro Spinto ieri La palla è buona Filippo Carli Il 16 La punta dentro La 14 manca Che prova a puntare De Vito Entra in area di rigore Adesso La palla filtra oltre Per i 14 Il cross Il secondo palla Il colpo di testa Pagnini La palla è lì Pagnini di nuovo Il vantaggio a sé Nieri Riesce ad arrivare per primo Con il Mencadi Occasione in capo aperto Mencadi Ferragnieri Nieri A limite dell'aria Mette piedi in area Nieri Prova a girarsi Non ce la fa Ancora Nieri Dietro Carli La palla è lì Nieri Posizione regolare Carli fronte alla porta C'è Demer Benericetti Benericetti va sul destro C'è il movimento Tra le linee Oltrenovata Adesso di Nieri Che si gira Nieri Michelangelo Nieri 2-1 2-1 Nella rete di rigore Forse per sfruttare Anche i contropiedi Palla sul secondo palo Va a saltare Dennis Rossi La palla è buona per Lici Lici traversa Numero 17 Fiorentino Palla profonda per Nieri Nieri per portarla a casa Nieri per portarla a casa Nieri Michelangelo Nieri Mencai la va a prendere Finisce qua Mobi Nieri Ponsacco 3 Terra 9 Tra ieri a 1 Il gol